Una collezione ricca di colori, il rosso, il fuzia, il rosa carne, il verde acqua, un'ispirazione ad una donna di classe vissuta negli anni 50, Millicent Rogers, ammirata nei migliori salotti di New York. Era un'ereditiera, fila del fondatore della Standard Oil. Era diventata veramente un'icona di stile, molto tempo prima che il mondo scegliesse successivamente come icona di eleganza Jacqueline Kennedy. In questa collezione ho pensato ad una donna che raccoglie impressioni e suggestioni dalle affascinanti atmosfere di un Messico astratto e bohemier, raccontato attraverso l'uso dei colori accesi, quali il rosso e il fucsia, abbinati inaspettatamente ai toni naturali dei pastelli, come l'acqua, come nelle architetture di Louis Baraghan. E quindi ci sono scenari in cui semplicità e purezza si alternano ad un accesso di decorazioni in cui possiamo trovare dei tocchi appunto degli abiti con un'estetica decisamente folk, dei monili di nobile artigianato fatto appunto di metalli preziosi e pietre dure. E' quindi una femminilità complessa e variegata in cui tocchi di eccentricità possiamo trovare nella libertà nella quale vengono utilizzati gli accessori come appunto gli stivali texani, i maxi zaini, le maxi bag quindi, i fiocchi, poi i cappelli e nella disinvoltura nella quale misse eleganti si alternano ad outfit decisamente sportivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.